Ehi, nothing you can say, because he's gonna trade what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Ah, è interessante, lui è da solo. Ce lo mangiamo, ce lo mangiamo. Il campione è lui da solo. Cos'è questa torre radio che c'è qua sotto? Dove? C'è un sembro a torre radio qua. Proprio qui. Non so che simbolo sia. Che? Ebbene, ha detto che vuoi vincere. Non lì, non lì. Ha pingato quello lì, ma vuole pingare dietro. Ah, ok. Mamma mia. E' detto, andiamo a vincere, mi punti alla navicella. Guarda, guarda, guarda. Oddio, uno l'ha lisciata. L'ha lisciata. Madonna. E' andato giù. Gente, raga, gente, mi arriva da me, mi arriva da me. C'ho il cartello? Oltre, eh. A destra. Qua sotto. Qui. E arriva anche da sinistra. Preso. Dovrebbe essere frisciato. Oddio. Sto morendo male. Bravi. Ho fatto quello dietro. Dove cazzo la tirata? Adesso arrivo. Merda, gente! No, fanculo. E' dentro lo scudo tuo. Ti sta pushando. Fa da me. Bravi. La wingman tira di quelle pappine, ragazzi. Oh, io in tutto questo non sono ancora riuscito a prendere il peacekeeper. Ci credete? Ce l'hanno loro, peacekeeper. No, vabbè, fa niente. Tengo la wingman, va a fanculo. Comunque, qua. E' qui. Cioè. E che ci vuole tanto. Avete qualche munizione? Per il peacekeeper? Eh. E ce l'avranno loro, cazzo. Qua, qua, Pippo. Qui, qua. Questo. Qua è pieno di shotgun. Ottimo, corazza viola e zaino. E' una viola. Andiamo là in fondo a vedere. Che cos'è atterrato. Eh, ma è oltre la mappa, avrebbe, mi sembra. Come fai se è oltre la mappa? Eh, dietro la, non so. Mi sembrava fosse oltre la barriera azzurra. Oh, no. Qua sotto. Ah, c'è? Eh, certo. Non penso che possa atterrare per terra. No, è che sono tornati indietro. Perché poi vi ha ingaggiato. Non l'ho più visto. Ma pensavo fosse fuori. Caccia standard. Mi sa che io non posso metterlo, quindi. Vedete voi. No, non posso. Qui davanti. Oh Dio, poacco. Esplodono, eh. Sono storditi. Via, 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 via. Morti. Buono. F***a, quelle stelle sono... Spettacolo. Sì, f***a. Sopra, sopra. Mi ha tolto tutto lo scudo, eh. Occhio. Ho, ho, ho aperto nel momento giusto. È là sopra. Arrivo Pippo, aspettalo. Andiamo insieme. Ci siete? Ce l'ho dietro i te, Pippo, io. Beh. Mi chiudo la porta dietro. Il tipo non lo so, eh. A me è avessero di andar di là. Qua. No. Lì sotto. Sì. Gravi. Porca troia, gli 8800. 140, due colpi alla testa. Curati, Aldo, curati, curati. A posto, a posto. Qui fuori c'è un fumo. Eh, ma abbiamo ucciso lei. Era lei che ha tirato il fumo. Non so. Raga, qua ci si può scendere. Qua, qua. Andiamo giù e la prendiamo. In tre. Tanto è inutile stare qua ormai. Controlliamo solo che non ci sia sopra. Sopra non può. Ok, no, se era nascosta lì. Andiamo. Pronti? Via. Dove cazzo è? Ha tirato la super, quindi, boh. da fanculo è la sopra. E' sopra sopra. Ho visto, ho visto Ma non posso neanche colpirla o sono scarso io? No, è lei però si ci ha colpito Oh no, no, l'ho preso, l'ho preso Ancora un colpo Adesso cosa devo fare? Madonna che fulo Ce n'è un altro Eh, sarebbe un blowdown Buona Hai fatto quello lì a terra? Si, si stava rianimando Ah, ecco perché Mi sembrava strano Ma hai visto che volo che ha fatto? Non ho fatto un cazzo Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace E di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti Vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao